Era succube di questa persona da 15 anni. Noi non si vuole né soldi né niente, si vuole giustizia e tanta. Per la mia sorella, per la sua mamma, ma anche per tutte le donne che sono in giro. A chiedere giustizia sono i familiari di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, le due donne massacrate e accoltellate in un appartamento di via Benedetto Varchi. Si è aperto questa mattina in corte d'assise il processo a Giavaldischam, rinchiuso nel carcere di Prato con la pesantissima accusa di duplice omicidio aggravato dalla convivenza stabile. Ammazzate due, io vorrei che gli dessano una pena molto alta, l'ergastolo. Non è stata riconosciuta la premeditazione, ma per il 38enne non si configura la possibilità di un rito alternativo, troppo gravi reati di cui si è macchiato. All'esito dell'istruttoria, la difesa ha già annunciato che chiederà una perizia psichiatrica. È un messaggio brutto per tutti gli altri, perché basta drogarsi, bere, ammazzare la gente che vieni scarronato o quantomeno ti diminuiscono le pene. L'omicidio della compagna e della suocera del 38enne si consumò di fronte agli occhi dei figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e una bambina di 2. Determinante sarà proprio la testimonianza del ragazzo, già cristallizzata in incidente probatorio. Gli hanno dato tutto e lui ha ucciso le persone che gli hanno dato tutto. Nel processo si sono costituiti parte civile i familiari delle due donne uccise accompagnati dall'avvocato Alessandra Panduri dell'associazione Senzaveli sulla lingua. Per il riconoscimento anche dei danni, in quanto i minori sono persone offese ma anche danneggiate dal reato, quindi vittime primarie che non ci sono più, ma i minori rappresentano le vittime secondarie e in quanto tali hanno diritto ad essere risarciti in quanto danneggiati. Prossima udienza il 18 novembre, previsto l'esame dei testimoni.